L'appello che faccio è quello di non continuare al gioco dello scaricabarile, ma di assumersi ognuno di noi, come liberi cittadini, la responsabilità di cominciare un percorso di vita quotidiana diverso. Il riferimento allo scaricabarile di Mario Conte, sindaco di Treviso ma anche presidente del Lanci, si collega al botte e risposta a distanza tra il presidente nazionale dei comuni Antonio De Caro e Agostino Miozzo, coordinatore del CTS. Miozzo, di fronte alle immagini di strade e piazze affollate, ha ricordato ai primi cittadini che hanno il potere di intervenire contro gli assembramenti nelle città, ma la replica di De Caro è stata immediata, basta con il tiro al bersaglio sui sindaci. Noi siamo ben consapevoli di quelle che sono le potenzialità da un punto di vista normativo, siamo meno sicuri però delle capacità organiche che abbiamo poi per poter mettere in campo delle misure di vigilanza di quelle che sono i provvedimenti, le ordinanze. C'è da dire però che se non cominciamo una nuova fase anche da un punto di vista mentale dell'aiuto reciproco anziché dello scaricabarile non ne veniamo fuori. Sindaci abituati a esporsi in prima persona, ferma De Caro e Conte lo conferma perché pur essendoci la volontà di far ripartire bar e ristoranti, spiega senza mezzi termine di non avere intenzione di tollerare comportamenti a rischio. Abbiamo conquistato con grande fatica questo assaggio di libertà con questa zona gialla e non abbiamo alcuna intenzione di lasciarcela sfuggire, quindi staremo attenti a quelle che sono le situazioni di possibili assembramenti e se sarà necessario saremo anche molto severi nei confronti di quelle persone che mettono a repentaglio il buon esito di questa situazione a tutti quanti. Grazie. 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 Grazie.